Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, analisi, se così possiamo definirla, di Juventus-Milan 0-1. Insomma, l'ultima gara all'Allianz Stadium è stata veramente una tragedia. Juventus che perde ai danni dei rossoneri, gol di Giroud nella parte finale del primo tempo, un bel gol di Giroud, dobbiamo essere onesti, che sfrutta una disattenzione di Gatti in marcatura e Giroud fa veramente un bel gol di testa nell'angolino. Era veramente molto molto difficile metterla lì, alla sinistra di Escesni. Però una Juventus che in questa analisi non possiamo fare altro che criticarla, ovviamente. E come stiamo anche facendo nell'ultimo periodo, c'è veramente ben poco di analisi tattica. Io mi ero ripromesso a inizio anno, a inizio stagione, che con questi video, analisi post-gara, avrei sempre voluto parlare, insomma, del modo in cui la Juventus ha difettato magari nel gioco, come poteva fare di più in alcune situazioni, come invece gli avversari ci hanno creato delle difficoltà, oppure anche il contrario, ovviamente. Come la Juventus si è resa pericolosa, come la Juventus ha saputo giocare in maniera fluida lì davanti o anche in fase difensiva. Insomma, un'analisi gara, un'analisi partita che comprendeva un po' tutti questi tipi di argomentazioni. Invece, con gli ultimi, non lo so, 15, 16 analisi post-partita, io ho sempre recitato lo stesso mantra, ragazzi. Non posso fare altrimenti, vi chiedo scusa, ma non posso fare altrimenti, proprio perché la Juventus non mi mette in condizione di fare in maniera diversa. Juventus che, come in ogni analisi post-partita, e infatti, mi scuso ragazzi, vi ripeto di questo, prevedibile davanti, lenta nella manovra offensiva, pochissime idee, pochissima lucidità, Milan, in questo caso, ma tutti gli avversari, padrone della palla, padrone del possesso di gioco, molto più pericolosa nell'arco dei 90 minuti della Juventus, e quindi sconfitta, meditata. Decima sconfitta in campionato per i bianconeri, non si registrava un dato del genere dalla stagione 10-11, con del neri in panchina, anche in quel caso lì fu una situazione, una stagione veramente orripilante, una Juventus che concluse quell'anno lontanissima, insomma, dalle posizioni che contavano, dalle posizioni che aspettavano ai bianconeri, stessa cosa, penalizzazione a parte, anche quest'anno. Nonostante, oserei dire, la penalizzazione a Juventus lontanissima dal Napoli, ad esempio, in classifica. Quindi una Juventus che registra un dato veramente, veramente increscioso per la storia del bianconeri, ma poi non solo, diciassettesima sconfitta stagionale, considerando proprio tutte le competizioni, è un dato veramente clamoroso questo. Io, a memoria, non ricordo di aver mai visto una stagione della Juventus così problematica, tralasciando tutti gli aspetti penalizzazione, quindi extracampo, proprio parlando del gioco, parlando delle questioni in campo della Juventus, io non ho mai visto, sinceramente, una Juventus così problematica, neanche nelle sue stagioni più bue. E poi è la terza volta in 50 anni, terza volta in 50 anni, che il Milan batte, sia l'andata che ha ritorno, la Juventus, senza fargli fare neanche un gol. Quindi, veramente una Juventus che porta a casa un altro record iper negativo, dalla stagione 90-91 e stagione 2009-2010, che la Juventus non riusciva, non solo a vincere contro il Milan, o anche a pareggiare, ma non riusciva a fare un gol contro il Milan. Quindi, il Milan che, come hanno scritto tanti sui social e condivido la loro analisi, e voglio riportare all'interno del mio video, Juventus che è stata, sì, lenta, con poche idee, poca lucidità, si addormenta in certi momenti di gara, e il Milan ha fatto una prestazione mediocre, e questa prestazione mediocre non ha mai messo in dubbio la vittoria dei rossoneri. Quindi, veramente, è una situazione clamorosa quello che stiamo vivendo in casa Juventus. Il Milan mediocre di questi tempi, perché questo Milan ieri non ha fatto, secondo me, neanche una prestazione buona, ha fatto, secondo me, una prestazione veramente mediocre, nel vero senso della parola, ma questo Milan mediocre ha avuto, comunque, sempre, secondo me, la sensazione di portare a casa la vittoria, anche in maniera abbastanza agevole. Quindi, questo dà un po' l'idea, la dimensione, ecco, della Juventus in questo finale di stagione. Poi ci sono le parole di Massimiliano Allegri e di Calvo, che vorrei esaminare nel video di domani, perché dobbiamo parlare di Calvo, delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi della Juventus, ma con le quali io sono d'accordo. Dichiarazioni di Calvo e di Allegri, che riporto, appunto, in un'analisi nel video di domani, perché dobbiamo commentare. Di solito, tralascio sempre le dichiarazioni, i diretti interessati, perché, comunque, ci sono pochi spunti interessanti, specialmente, ultimamente, magari prendo qualche argomento per fare un focus o un video nello specifico, questa volta c'è bisogno, veramente, di analizzare in maniera approfondita sia le parole di Calvo, con le quali io sono d'accordo, e sia le parole di Allegri, con le quali io, veramente, sono, nella maniera più lontana possibile, in accordo. Quindi, sono lontanissimo dalle dichiarazioni di Allegri. Ha detto, assolutamente, delle cose gravissime. Ma, rimanendo, appunto, nell'analisi della partita, è chiaro che una Juventus, che ci ha messo anche la buona volontà all'inizio, specialmente nel primo tempo, ha provato ad essere aggressiva, ha provato con questo nuovo modulo, 3-4-3, ad essere, comunque, più alta, ecco, cercando di andare a prendere i difensori del Milan, i centrocampisti del Milan, all'interno della loro metà campo. Però, comunque, è una Juventus che si è resa, per la maggior parte dell'occasione, inoffensiva. Una Juventus che ha costruito veramente poco, ripeto, pochi guizzi personali da parte dei giocatori più dotati, Chiesa e Di Maria, pochi guizzi da parte di colui che doveva fare, magari, un po' di regia in questa Juventus, ossia Locatelli o anche Quadrado e lo stesso Kostic che sono sembrati, veramente, con il freno a mano tirato in ogni singola occasione. Ci sono veramente poche sufficienze nella gara di ieri e proviamo ad analizzarle nella parte finale del video, però è sicuramente una Juventus a cui bisogna veramente fare tutte le critiche possibili perché è veramente una Juventus incommentabile. Una prestazione leggermente migliore rispetto a quella fatta contro l'Empoli ma stiamo sempre parlando di una Juventus iper negativa a cui veramente è impossibile non criticare. Per quanto riguarda la scelta del modulo, 3-4-3 quindi Allegri cambia e io mi sono visto anche un attimo rinvigorito da questo cambio di modulo perché avevo prospettato ecco, avevo sperato un cambio in questa gara così importante che valeva ancora l'accesso alla prossima Champions League matematicamente senza lasciare ovviamente da fuori ogni discorso legato alla penalizzazione ma una Juventus che col 3-4-3 schierando Chiesa di Maria e Ken poteva dare comunque dei grattacapi con la loro velocità ai difendenti del Milan invece siamo stati veramente inefficaci ho premiato lo vedrete nella parte finale del video la buona volontà di alcuni giocatori ma stiamo parlando secondo me di una Juventus che comunque non si è mai resa pericolosa dalle parti di Magnano una difesa 3 che a me piace in questa maniera con Gatti Bremer e Danilo perché sono in questo momento l'unico trio possibile competitivo da mettere in campo però anche loro in grandissima difficoltà e poi i 4 attaccanti del Milan perché quando loro attaccavano erano sempre 4-2-3-1 quindi 4 attaccanti mettevano sempre in difficoltà i nostri tre difensori centrali e poi ancora una volta un centrocampo a 2 con Locatelli e Rabiot se con Locatelli possiamo ancora parlare di un modulo che rispecchia le sue caratteristiche il Rabiot di quest'anno secondo me è più una mezzala sinistra di inserimento e quindi è molto castrato secondo me in questo 4-3-3 in questo 3-4-3 proprio perché lui non deve più ricoprire il ruolo di semplice mezzala che va ad inserirsi e va a buttarsi dentro ma diventa uno dei perni davanti alla difesa quindi ha poche possibilità di spingersi in avanti quindi questo 3-4-3 dovrebbe sulla carta favorire Locatelli ma dovrebbe anche rendere le cose un po' più difficili limitare un pochettino le caratteristiche di Adrian Rabiot che in questo stagione secondo me ha fatto le migliori cose da mezzala di inserimento Quadrado e Kostic messe in quelle posizioni dovevano creare superiorità numerica sugli esterni ma così non è mai stato praticamente non hanno mai saltato l'uomo in maniera pericolosa solo qualche cross di Rado ma comunque fatto male e davanti mi piaceva l'inserimento di Ken e non di Milik perché Ken poteva essere uno di quelli che con le sue caratteristiche comunque di attaccante mobile di attaccante che riesce spesso e volentieri a puntare l'uomo in velocità e a saltarlo poteva creare dei grattacavi alla difesa però non è stato mai supportato la Di Maria e Chiesa che hanno fatto secondo me una gara molto molto singola molto solista per entrambi i giocatori anche se uno secondo me dovrebbe essere nelle mie pagelle un po' più in alto nella prestazione rispetto appunto all'altro ma anche nei cambi Allegri ha provato a cambiare qualcosa inserendo 4 giocatori freschi e non 5 e quindi anche questo può essere un tema perché Allegri non fa 5 cambi nel momento in cui stiamo perdendo ne fa solo 4 quindi sfrutta male i slot a disposizione Iling Milik Paredes e Bonucci ma solo per infortunio Bonucci è entrato sono stati appunto i cambi provati da Max Allegri e ha lasciato in panchina secondo me Miretti che poteva comunque grossomodo entrare a un certo punto al posto di Locatelli perché Locatelli era veramente inguardabile e poi secondo me poteva anche entrare nel finale magari qualche altro giocatore tipo Sersanti un ragazzo del settore giovanile che poteva con la sua capacità comunque offensiva mobile anche travolto dall'entusiasmo di fare l'esordio assoluto con la Juventus poteva magari creare qualcosina insomma non è matematica poteva succedere come poteva non succedere però perché precluderti questa possibilità stai vedendo comunque un quadrato super impacciato potevi mettere Barbieri o Sersanti lì sull'esterno a provare a creare qualcosina magari superiorità numerica ad un certo punto magari la loro freschezza poteva fare la differenza poteva pescare l'ealing di turno che abbiamo visto contro il Benfica perché no perché precluderti magari questa possibilità però chiaramente Max Allegri lo conosciamo da questo punto di vista negli ultimi due anni da quando c'è stato l'Alecubis è sempre stato in grande difficoltà secondo me sulla questione dei cambi analizziamo nella parte finale ovviamente di questo video i giocatori quindi le loro prestazioni chi è che salvo in questo match salvo innanzitutto Scesni che non può nulla sull'implacabile torsione di Giroud salva provvidenzialmente su Salemekers a un certo punto nel secondo tempo con un grande intervento di posizione ed è chiaramente uno di quelli che tiene botta fino alla fine Bremer anche lui lo salvo anche se non ha fatto una gara fantastica però tiene bene il duello fisico con Giroud una volta solamente non lo marca lui ma lo marca Gatti ed è stato il momento in cui abbiamo preso gol quindi a un certo punto quando abbiamo visto tante volte Giroud scendere basso a prendersi il pallone abbiamo visto molto molto bene Bremer con le sue caratteristiche di giocatore che va ad aggredire un po' alla De Ligt il giocatore del Milan nella prova di metà campo quindi molto alto in pressione esce per un infortunio nel finale ma per fortuna è solamente una botta anche in vista non solo dell'ultima gara perché chi se ne frega ma in vista comunque della prossima stagione perché deve riposarsi e deve essere al 100% per la preparazione estiva poi chi è che è salvo posso salvare ancora posso salvare Rabiot magari qualche accelerazione ha fatto qualcosina a livello di contenimento ma doveva fare sicuramente di più però è da premiare magari rispetto agli altri qualche accelerazione qualche iniziativa qualche gestione del pallone un po' migliore rispetto a Locatelli ad esempio poi chi possiamo salvare più possiamo salvare Ken possiamo salvare Ken assolutamente che forse insieme a Scesni è stato il migliore della Juventus è uno dei pochi che ha provato a fare qualcosa lì davanti con grande grande impegno i limiti tecnici sono evidenti però si è dato veramente un gran da fare e Ken mi è piaciuto comunque in qualche spunto offensivo sempre bravo a trovarsi spazio in avanti e bravo a crearsi lo spazio Ken in questo è sempre stato bravo in questa caratteristica però è sicuramente uno dei sì meno peggio però chiaramente ripeto stiamo parlando sempre di un livello mediocre di rendimento poi per quanto riguarda gli altri ragazzi Male Gatti che perde Giroud nell'occasione del gol Male Danilo che sfiora il gol nel finale ma è sicuramente è stato uno dei più sofferenti in fase difensiva ha sofferto tanto le incursioni di prima Brian Diaz e poi Salemakers nel secondo tempo poi Quadrato cosa possiamo dire Quadrato non ha mai mai fermato Leao in fase offensiva anzi Leao è sempre stato non dico incontenibile come i bei vecchi tempi però è sicuramente sempre stato una spina nel fianco della Juventus anche perché Quadrato continua a destare tanta perplessità in fase difensiva ma lo è sempre stato poi Locatelli lento prevedibile mai in partita una regia lenta insomma veramente troppo troppo scolastica e quando è lui a fare il regista non fa mai girare la squadra quindi veramente in grande difficoltà Kostic ha iniziato bene Kostic con il suo standard il suo livello qualitativo poi a un certo punto è andato completamente in confusione cala di condizione anche Calabria l'ha praticamente asfaltato nel secondo tempo poi Di Maria e Chiesa da un lato abbiamo un Di Maria indolente insulso perché ha sprecato la palla del vantaggio praticamente i fischi a un certo punto un altro tema per Di Maria sono stati assordanti a un certo punto un indirizzo significativo per uno come lui che dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle invece continua a nascondersi dietro agli avversari quindi in grandissima difficoltà Di Maria ha avuto ripeto una palla veramente seria per fare gol ma stiamo parlando sempre di un ragazzo che ha tanta tecnica ovviamente un ragazzo di grandissima qualità e quindi da lui giustamente ti aspetti sempre qualcosa in più e non questo rendimento così basso ma è chiaro è un sintomo comunque di un Di Maria che contro l'Udinese farà l'ultima gara e poi arrivederci purtroppo perché Di Maria è un giocatore che io amo ma chiaramente questo Di Maria non può proseguire alla Juventus e poi Chiesa Chiesa ha fatto più o meno la stessa gara di Di Maria sempre individualista sempre comunque intestardendosi nella giocata singola però perlomeno da parte di Chiesa ho visto l'impegno la voglia di non arrendersi mai almeno questo lo differenzia diciamo nell'analisi rispetto a Di Maria però Chiesa perlomeno quando prendeva palla e la perdeva magari in un 1 contro 1 era arrabbiato si incazzava quindi lo vedeva che ci teneva veramente tanto e che provava a prendersi la Juventus sulle spalle invece Di Maria quando perdeva palla insomma o se la prendeva con i compagni o rimaneva lì fisso come uno stoccafisso ragazzi questa era l'analisi di Juventus Milan 0-1 sono curioso di sapere la vostra nello specifico insomma Juventus settima in classifica non c'è stato il sorpasso ai danni della Roma con la vittoria con l'Udinese magari possiamo ancora sperare sul campo in un piazzamento in Europa League però c'è comunque da tenere conto degli altri risultati però è sicuramente una Juventus che in questo momento non abbiamo già parlato nel video precedente è ufficialmente in Conference League sul campo al netto delle varie penalizzazioni che dovrebbero arrivare ragazzi questo era il mio commento mettere like se non vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale se non potete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri ragazzi vi saluto ciao a tutti da domenica versa ciao a tutti raga ciao a tutti